Benfica e Juventus 4 a 3. Il Benfica vince contro la Juve in questa partita di Champions di oggi. Una fase in giro nel gruppo H e la quinta giornata di 6. I 4 gol, il poker di gol del Benfica, sono affidati a firma di Antonio Silva al diciassettesimo del primo tempo, Juavo Mario al ventottesimo su di gore e due gol di ultimi due a firma di Rafa Silva al trentacinquesimo del primo tempo e al cinquantesimo del secondo. La risposta della Juventus arriva già nel primo tempo grazie ad un unico gol di Kean al ventunesimo, poi al settantasettesimo del secondo di Miric e poi l'ultimo di McKennie al settantanovesimo. Stranamente la Juve ha perso, ma anche la Juve ha perdito, come vedete, come notate, non è riuscita a vincere, una partita che comunque sicuramente a mio avviso è stata difficile, perché il Benfica ha giocato molto bene. Iscrivetevi al canale, narratovitaliano, commentate, un saluto regalo a voi e al prossimo video.